Passiamo adesso agli esercizi sul diaframma per le voci maschili, in questo caso vado su un Fa diesis e arriverò circa a un Si, insomma non importa farli lunghi, l'importante è che li ripetiate, ok? Anche qui lavoriamo su una terza, mettete la H, se potete, minimizzate la H, ok? E partiamo con una H. 1, 2, 3, 4 Ok Ok, adesso lo duplichiamo, tanto per variare, anche qui questo esercizio è sempre simpaticissimo, divertentissimo. Ok, quindi facciamo. Torniamo giù, sentite non è A A A A, mi raccomando eh, A A A A, giù. Ultimo.